Bella ragazzi, di nuovo con Porco 2, sono riusciti a venire fuori con... Ah, scusa mi dicevo, pensavo fosse venuto. Allora, questo ragazzi è un livello cazzone, è molto cazzone, ci vuole le palle dure, ovviamente. Cazzo che sono loro, andiamo a caccio al cervo, i cerviati sono questi mongoloidi di merda, chiamati anche tutti a piselli, tutta, 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 ok, allora, comunque, bella, se sta così, magari fino a cazzo ci sta sempre, oh, bello, bello, ma tu vende a badare la tua mamma, tutta, 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 oh, ma questo è pronto, il sale e morso, il sale e morso, il sale e morso, forse pure, vicino al cesso, cazzo, se sono vicino al cesso, caga una mamminchia, occhio dove spari, per la capi alla palla, questo è il fatto che ho fatto da un cazzo, non quasi tutti i compagni di varie campagne di ciaio di guerra, ma non è un cazzo, che cazzo, ma che what a fuck a what a fuck, what a fuck a cacciuccia cazzi, puh, nel culo, che cazzo fa, no, le si è inceppata l'arma, no, 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 qui bisogna fare, attento, vuz, bello, zio, ma quindi ora c'ho, no, non c'ho pazzo, buono, portate via il culo da qui, sali, 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 sali a tu madre, e sali a tu madre, mezza seta? da quando qua c'ho un c talkedia mamma, Soprattutto a che cazzo dovevo sparare, voglio sapere. Vabbò. Certo, vediamo molto la grafia, scascia di merda proprio. Probabilmente fa schifo alla merda perchè, infatti, fa schifo alla merda. Io sto sparando leggermente a cazzo, però va bene dai. Oh, c'è un altro. No, che cazzo, che cazzo di merda fa il culo. Per cui... Vedla. 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 ma puttana, ci stai bene mettiamo un attimo eh, baffanculo dove cazzare quell'acqua baffanculo scusate ragazzi ma è una problematica la cosa ma quello non è molto bello quindi si questo è stato quello è un po' più stronzo, vedi? cioè sono riuscito e questo riesce a furtigli anche la mamma troia volendo è stato lì a prima cosa mi sono trovato un attimo film lascia filmato guarda lui bella figa che viene dopo eh sembra una merda che ha messato vietno scusate si è ridotto una merda risonanza ci siamo qui per parlare nel quarto incontro con i russi nel Laos hanno detto che potrebbe esserci un disertore no grazie è pare una merda schiacciata ciao 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 Perché si tratta di cazzi neri Quindi ci vediamo alla prossima puntata Mettete mi piace Saluti da Porco2 Ciao belli